Nota introduttiva. Esiste un modo molto semplice per capire se un metodo è valido oppure no. Se funziona è valido, se non funziona non lo è. Nel mondo della scienza come in quello dell'impresa, lo strumento di misurazione inequivocabile del valore di un'idea, di un metodo o di un sistema è la sua efficacia. La chiave suprema non ha fronzoli, non si maschera dietro arzigogoli estetizzanti, evocative metafore o facili sotterfugi spirituali. Procede per punti chiari, logici, asciutti. Ciò non significa aridità, tutt'altro. La grandezza del sistema, e delle parole di Charles Hanel, che riflettono indiscutibilmente il valore e la grandezza umane di questo straordinario imprenditore saggio, come vi renderete conto avanzando nella pratica, consiste proprio nella sua efficacia, nella sua chirurgica pragmaticità, nella sua capacità di accompagnarci, passo dopo passo, esercizio dopo esercizio, alla consapevolezza di avere ed essere un enorme potere mentale e spirituale, di vivere in un universo pieno di significato e di poter costruire concretamente, con determinazione, concentrazione e impegno, la nostra realtà, per ottenere ciò che vogliamo, per godere di ciò che abbiamo, per scoprire e diventare ciò che sentiamo veramente di essere, e per essere felici di ciò che siamo. Tre aspetti vorrei sottolineare prima di lasciarvi avventurare in questo meraviglioso viaggio dentro voi stessi, donne e uomini fatti della stessa sostanza dell'universo. Il primo è, come accennato, la pratica. Efficacia significa risultati proporzionati all'impegno. Senza pratica non si ottiene nulla. La chiave suprema di Charles Hanel è il frutto prima di tutto della pratica dell'uomo e imprenditore Charles Hanel ed è il risultato di un successo autentico, concreto e personale, replicato in centinaia, migliaia, milioni di altri successi autentici, concreti e personali, conseguiti nel secolo di vita di questo metodo da chi ha creduto fino in fondo e ha avuto fede incrollabile nel suo successo. La pratica quotidiana non va sottovalutata né data per scontata. Siamo oggi a sue fatti a un sistema di credenze che ci impone il tutto e subito. Il raggiungimento del massimo risultato con il minimo sforzo, favorendo e fomentando la totale passività nei confronti della vita. Ritornare protagonisti del nostro cambiamento, agire come individui consapevoli ci mette di fronte a una serie di domande e di incognite a cui non siamo più abituati. Perciò mi permetto di darvi un consiglio. Non mollate. Il secondo aspetto che vorrei sottolineare riguarda gli obiettivi. Nessun limite, se non i limiti che noi stessi, a livello conscio o subconscio, ci creiamo, ci ostacola. L'assoluta libertà in termini di desideri, realizzazioni, successi, traguardi, si spalanca davanti ai nostri occhi. Assoluta libertà non significa però assoluta arbitrarietà o egoistica autoreferenzialità. Non significa fare quello che mi pare come mi pare. Hanel non insiste più di tanto, quasi lo dà per scontato, ma in alcune occasioni punteggia il testo di questa avvertenza. Possiamo conseguire ogni libertà, desiderio o traguardo, solo se è sicuro, appropriato, in sintonia e accordo con l'evoluzione dell'universo. Perciò, siate certi di formulare un desiderio conforme ai, meravigliosi peraltro, principi a cui il metodo attinge, e lavorate, con gli esercizi proposti, per ripulire con costanza e assiduità ogni inevitabile sedimento o residuo di egoismo, invidia, ansia, paura, e di qualunque altra emozione negativa si affacci alla vostra mente. Capirete da soli. Io seguo il metodo da quattro anni, con crescente entusiasmo, che una volta che avremo ripulito noi stessi dai nostri disagi, frustrazioni, paure, angosce, sensi di colpa, rimpianti, credenze ereditarie e autosabotanti, scompariranno letteralmente tutti gli stress e le contraddizioni che il nostro mondo ci ha abituato a subire e manifestare nei confronti del successo, del benessere economico e del denaro. Il terzo aspetto, è l'utilizzo del metodo. La chiave suprema era in origine un corso settimanale che veniva spedito via posta agli abbonati. Una lezione a settimana resta ancora il ritmo ideale per mettere in pratica il metodo e ottenere i migliori risultati. Vi consiglio di mantenerlo. Per questo abbiamo deciso di dosare le 24 lezioni del corso in tre audiolibri da otto lezioni ciascuno in modo da mantenere, seppure idealmente, la scansione originale. studiate una lezione a settimana. Ascoltatela e riascoltatela. Praticate l'esercizio di ogni lezione regolarmente e solo quando sarete sicuri, siete voi i migliori giudici di voi stessi, di aver fatto vostra la lezione, passate a quella successiva. Non abbiate fretta. Anche se dovessero passare due o tre settimane o perfino un mese da una lezione all'altra, non preoccupatevi. Eseguite gli esercizi con regolarità. Ascoltate e riascoltate la lezione e meditate su di essa fino a sentirla vostra. E quando avrete completato le 24 lezioni, non cestinate e dimenticate il corso, ma ritornate periodicamente a riascoltarlo. Tenetelo a portata di mano sul vostro lettore MP3, tablet, e-reader, smartphone o computer. Riapritelo e riascoltatelo. Ripassando gli elementi chiave e ritornando a praticare gli esercizi. Solo così potrete sfruttare la chiave suprema in tutta la sua potenza. Questo non è un audiolibro da ascoltare. È un metodo da mettere in pratica. Ascoltarlo vi porterà attimi di gioia.